Era il 24 maggio quando di lunedì Ivan Gazzidis entrava in tutte le divisioni rossonere con le braccia alzate e i pugni chiusi. Perché il Milan era appena tornato in Champions League e lui voleva assolutamente e fisicamente condividere con tutte le persone che lavorano per il Milan, nella prima linea del Milan, la grande gioia, la grande soddisfazione. Un risultato evidentemente non soltanto aziendale ma soprattutto sportivo e umano da condividere e da festeggiare insieme. Nemmeno due mesi dopo, in un bel momento per il Milan, in un momento di serenità per il Milan, in un momento in cui il Milan è appunto tornato in Champions League e sta facendo un bel mercato, un mercato importante nonostante tante situazioni, nonostante tante difficoltà come sempre ci sono nella vita. In questo momento di serenità un uomo buono come Ivan Gazzidis, perché questo è un uomo buono, un uomo delicato, sensibile, si preoccupa quasi più di tranquillizzare lo status quo delle persone che lavorano per il Milan, lo status quo dell'ambiente, si preoccupa quasi di non scuotere, non può non dare la notizia perché non è un pubblico ufficiale ma è un dirigente di alto livello di un club, il Milan formalmente è un'azienda privata, di fatto è una società pubblica che entra nella vita delle persone tutti i giorni e sui giornali tutti i giorni, coglie la portata di una notizia che riguarda se stesso, coglie la portata di una notizia del genere e non vuole che questa notizia alteri, non vuole che questa notizia turbi. Questo è Ivan Gazzidis, una persona dalla riflessività e dall'introspettività davvero speciale, davvero speciale. Questa capacità di dare più importanza al pubblico che al privato, dare più importanza alle persone di cui si occupa, che quasi a se stesso è qualcosa che è giusto, che è doveroso sottolineare. Quanti di noi ricevuto una notizia del genere si sarebbero chiusi in una stanza con la testa fra le mani? Ivan Gazzidis invece ha messo in primo piano il Milan, la serenità del Milan, lo scherzare con i propri collaboratori, con tutti i dirigenti, con Paolo Maldini, con le persone con cui lavora, ha voluto informare prima i dipendenti della necessità di queste sue cure, perché in primo piano quindi la tranquillità dei dipendenti, che il Milan continui a lavorare, certo che il Milan continuerà a lavorare, con un pensiero in più, con una motivazione in più, con una vibrazione in più, perché Ivan Gazzidis è un uomo che merita senza smancerie, senza eccessi, senza forzature, ma merita che si dia tutto per il lavoro che si fa, perché l'umanità, la bontà e la sensibilità in un dirigente di altissimo rango e di altissimo livello sono doti che assurgono ancora di più e che meritano tutta la vita la maiuscola, ho colto, eletto, l'onore delle armi da parte di tutti, da parte di tutti i media, da parte di tutti i giornalisti, anche quelli che in alcuni casi sono più critici, ma qui un gigantesco in bocca al lupo si impone non soltanto per la specificità della situazione di Ivan Gazzidis, ma anche per il modo molto particolare, molto giusto, molto obiettivo con cui questa notizia è stata data. Un comunicato in cui parli del tuo cancro, invitare comunque le persone a fare controlli periodici, a pensare a se stesse, a lavorare sulla propria salute quotidiana, ecco è un gesto che va oltre, è un gesto che va fuori dal comune, ho letto anche sui social, su Twitter, messaggi di tifosi avversari molto belli, insomma vedo che ci sono dei momenti in cui la comunità degli sportivi sa essere tale e questa comunità degli sportivi oggi è tutta stretta, non soltanto la comunità dei milanisti, ma la comunità di tutti gli sportivi, di tutte le persone di buon senso, di buona volontà è tutta stretta attorno ad Ivan Gazzidis che sta andando a fare le sue cure. Mi auguro davvero, mi auguro davvero, ci auguriamo tutti davvero indistintamente, tutti insieme che, insomma, così come sono passati due mesi dalle braccia alzate dai pugni chiusi del post Atalanta Milan alla notizia di oggi, ne passino altri due dalla notizia di oggi ha una notizia che noi preghiamo con tutte le forze, preghiamo con tutte le forze di poter dare col sorriso di tutt'altro tipo, di tutt'altro segno, di tutt'altro tono rispetto a quella di oggi. Forza Ivan, forza, 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 senza se, senza ma, senza null'altro, forza, forza, forza. E quindi come Ivan Gazzidis ha le prese con una delicatissima, importantissima vicenda personale al quale arriva un gigantesco in bocca al lupo da parte di tutto il mondo dello sport, vuole che il Milan vada avanti e che si parli costantemente e sempre del futuro del Milan e della forza del Milan, proviamo a farlo anche noi, con il mercato del Milan che prosegue con questo dibattito attorno alla maglia numero 10 di Brian Diaz, con questo dibattito attorno a Vlasic che ha chiesto al CSKA Mosca di essere liberato, di essere ceduto, di poter andare via. Quindi in questo momento le discussioni ruotano attorno al rinobo di Chessy, ho letto autorevoli commentatori che parlano di settimana di Chessy e al ruolo del trequartista. Di queste vicende, di questi temi si occupa OneFootball che vi ricordo e vi segnalo, caldeggio OneFootball, OneFootball è la sua app gratuita, connessa, importante, scaricate l'app di OneFootball perché è a vostra disposizione e vi servirà quotidianamente. Quindi il numero 10 di Brian Diaz mi ricorda un po' quello che accade nell'estate del 2006, eravamo tutti riuniti per il workshop del Milan, attraversati e pervasi anche dai refoli di Calciopoli, fu la mattina in cui prima di una conferenza stampa Adriano Gagliani mi prese per, proprio nei minuti prima di una conferenza stampa mi prese per il braccio, mi fece fare il giro del Tanka Village spiegandomi che cosa davvero poteva succedere al Milan e tornati con tutti i giornalisti, prima di iniziare la conferenza stampa Adriano Gagliani annuncia che Emanuele Ruicosta non sarebbe più stato con noi e che aveva immediatamente, tempestivamente ricevuto ancora la sede storica rossonera di Viaturati la telefonata di Seedorf che in un anno secondo aveva chiesto il numero 10. Non sto sia ben chiaro paragonando Clarence Seedorf a Brian Diaz, sia ben chiaro. Però volere la 10 non è soltanto un indice di personalità, non è soltanto un dire la voglia, ma è anche la consapevolezza di voler recitare un ruolo di primo piano. Brian Diaz era arrivato al Milan un anno fa dopo aver giocato pochissime partite negli ultimi anni, un ragazzo giovane, grande promessa, grande spazio sui siti, grandi discorsi di denaro, ma pochissime partite, sia nel Manchester City che nel Real Madrid. Sembrava un ragazzo in cerca di se stesso. Invece avevamo scoperto un ragazzo che nel momento in cui ha colto fiducia, perché quando Stefano Pioli lo ha schierato contro la Juventus a Torino nella partita che valeva la vita e il futuro del Milan, Brian Diaz ha capito che c'era fiducia nei suoi confronti, ha capito che era un grande atto di fiducia schierarlo dal primo minuto e ha ripagato immediatamente il Milan con una grande prova, con un grande gol, con una grande partita, con una grande prestazione. Quindi è un ragazzo che se riceve fiducia ripaga. Ed è un ragazzo che se ha voglia di avere più responsabilità, se ha voglia di essere più coinvolto, più al centro, e il numero 10 è una spia in questo senso, segnale in questo senso, vuol dire che ha la consapevolezza del peso della responsabilità che richiama e che questa maglia comporta. La vicenda di Vlasic che chiede di essere ceduto mi ricorda sempre più quella di Honda dell'estate del 2013, poi ripeto, Honda venne nel 2014, i russi sono tosti e duri, vedremo se Vlasic ce la farà ad arrivare prima o meno, in ogni caso il Milan si tiene tante opzioni aperte. Ho la sensazione che il Milan stia facendo tanto per arrivare a Renaudi, che sì. E mi auguro a questo punto che anche Frank faccia tanto, come giusto e come non ho dubbi che accada. Speriamo bene. Ciao a tutti, a domani.